grazie david se posso permettermi passerei la palla al sottoscritto e ti porrei io un mio quesito che ho molto a cuore allora noi sappiamo che uno dei cavalli di battaglia no è uno delle punte di diamante di ray già nel suo best seller la singolarità è vicina e ancora di più ora in quest'ultima fatica editoriale come diceva la singolarità è più vicina e le tecnologie come le biotech neurotech nanotech genetic ora addirittura in questo suo ultimo libro è implementate con l'intelligenza artificiale con le iai ecco lui descrive scenari in cui si estenderà la durata della vita umana ora non è banale questo perché innanzitutto ci sono delle sfide economiche e morali perché un umanità in cui uno scenario in cui l'umanità vive indefinitivamente non è banale anche se non dico all'infinito ma diciamo tende ad avvicinarsi a quella a quella quantità e si parla infatti di velocità di fuga di longevità no è nel gergo dei biogerontologi degli immortalisti c'è poi un lato anche secondo me non indifferente che è il lato psicologico cioè non so forse vivere in interno è un po noioso banale domanda ma vedo anche però ci sono dei come dire dei delle sfide da affrontare anche per esempio una domanda che può essere forse vista un po provocatoria ma che secondo me non è di non è da sottovalutare quale impatto un'umanità in che che arriva a vivere 200 250 anni in ottime condizioni fisiche e psichiche e forse arriverà a vivere indefinitivamente che impatto avrà sui vari sistemi istituzionali a livello globale che sappiamo avere quasi tutti più o meno come stakeholder passatemi questo termine player religiosi noi sappiamo che la religione è de facto storicamente in maniera molto esemplificativa una risposta al problema della morte che ad ora è ineruttabile ma fra vent'anni va a sapere quindi ecco questa è la mia domanda che a cui tenevo tu potessi darmi una risposta ecco l'accelerazione del cambiamento e l'impatto di questa accelerazione è particolarmente difficile proprio perché richiede un'analisi senza necessariamente aver tempo per scendere in sufficiente profondità capire non solo le implicazioni di primo ma anche di secondo ordine gli effetti che non ci si aspettava che ci sorprendono che devono essere incorporati nei modelli predittivi e così avanti dal punto di vista tecnologico dal punto di vista economico sociale eccetera e le persone che sono appassionate all'applicazione delle varie tecnologie ad affrontare malattie e risolverle permettendo alle persone da una parte di non morire in in età giovane e questo in tutto il mondo è stato fatto in una maniera straordinaria la mortalità infantile si ridotta negli ultimi cent'anni negli ultimi 50 anni ma anche solo negli ultimi 20 anni in modo sempre più radicale e diffuso quindi anche nei paesi dal reddito basso vediamo sempre meno bambini morire per cause che si possono prevenire nel momento in cui c'è la conoscenza e ci sono i mezzi e le risorse per implementare la conoscenza necessaria un esempio concreto di questo è quello di dare una soluzione zuccherina di acqua ai bambini che soffrono di diarrea che poteva uccidere il 30 per cento il 20 per cento dei bambini al di sotto dei cinque anni in un'india non solo povera ma mancanza di una conoscenza relativamente elementare di un intervento salvavita che oggi viene diffuso conosciuto e praticato sufficientemente perché nelle statistiche si veda che i bambini in india hanno smesso di morire per questa causa e come questo ci possono essere altri esempi molto importanti che hanno avuto una capacità di intervento per eliminare alla radice sofferenza umana diffusa in modo quasi universale negli anni passati queste persone appassionate intervengono anche all'altro estremo dell'arco di vita delle persone cioè in età avanzata per capire come affrontare delle cause di mortalità che possono essere malattie cardiovascolari del sistema circolatorio nervoso e in generale malattie degenerative dovute alla vecchiaia quelle più radicali tra queste persone dicono se noi sistematicamente eliminiamo queste cause alla fine le persone smetteranno di morire qual è la differenza di questo particolare scenario rispetto ad altre come non so l'emergere di robot umanoidi o intelligenza artificiale spinta o nanotecnologie estreme che nel momento in cui abbiamo una persona di 80 anni e applichiamo delle tecnologie avanzate che permettono a questa persona di uno non morire e due rallentano o addirittura rovesciano l'andamento degenerativo del del suo sistema circolatorio o nervoso beh l'anno prossimo quella persona uno vivrà e due avrà 81 anni l'anno prossimo ancora ne avrà 82 l'anno prossimo ne avrà 83 e così con tutti gli altri che scelgono di partecipare a queste tecniche eventualmente inizialmente sperimentali e poi sempre più accessibili e disponibili a chiunque voglia utilizzarli e quindi quando avremo davanti a noi la necessità di implementare le soluzioni di una società dove le persone avranno 200 anni o più beh tra cent'anni se adesso parliamo di centenari o tra 150 anni se parliamo di persone che hanno 50 anni quindi è assolutamente utile ed importante a pensare come affrontare quello quello scenario ma abbiamo un certo tempo a disposizione già oggi vediamo alcuni elementi che potrebbero caratterizzare un mondo come quello tendiamo oggi a dare un credito quasi automatico alla mera età di una persona se abbiamo due persone che occupano una posizione simile una più anziana e l'altra più giovane tendiamo ad immaginare che quella più anziana abbia più esperienze e che quindi sia più autorevole si osserva anche che i contributi più innovativi e quindi che portano avanti la sperimentazione di soluzioni eventualmente diverse da quelle passate a nuovi problemi vengono date da persone relativamente più giovani e quindi se mettiamo insieme questi due fattori che oggi sono quasi universali nella nostra società la morte è praticamente necessaria perché è l'unica componente che permette alle nuove soluzioni eventualmente necessarie di emergere in assenza oggi di questa componente troveremmo un completo blocco è un una fossilizzazione della società in soluzioni passate eventualmente non sono più adeguate al mondo di oggi e quindi una particolare componente di una società futura dove le persone hanno una vita indefinita dopo essere arrivati a 200 anni l'anno dopo ne hanno 201 e così avanti è quello di una necessità di rimettersi in gioco di resettare le aspettative che le persone più vecchie sono per forza più sagge in effetti anche matematicamente non avrà molto senso perché una persona che ha 180 anni paragonata con gli occhi di oggi con una persona che ne ha 190 non è che questa seconda sia per forza più saggia perché ha 10 anni di esperienza in più in proporzione la cosa non non è ragionevole faccia tutta quella differenza e questo è solo un esempio un altro lo faccio ancora più rapido i tuoi nemici non moriranno mai che cosa significa questo da vedere oggi i conflitti sono di diverso tipo ma un particolare tipo di conflitto anche non violento è semplicemente quello della pazienza già Lao Tzu lo diceva che è un modo particolare di vincere la battaglia è di sedersi sulla riva del fiume ed aspettare che il corpo del tuo nemico passara quando è morto flottando sulle onde in un futuro ipotetico quando le cause di morte sono eliminate questo tipo di approccio non sarà più possibile quale sarà la risposta delle persone della società non lo so una delle possibili risposte è quello di una ossessiva e continua serie di sforzi per eliminare i conflitti alla base non sarà un problema che i tuoi nemici non muoiono mai perché non avremo nemici perlomeno in base alla definizione attuale grazie david è sposta è stata ben più che esauriente grazie e direi a questo punto che ci abbiamo rubato anche troppo tempo per saziare la nostra curiosità circa il nuovo libro di Ray Karswell colgo l'occasione allora per tutti coloro che guarderanno questo video che ci ascoltano di ricordare come il 24 settembre vi sarà la presentazione del libro ci sarà presente anche ovviamente sia io e Riccardo ma soprattutto David che ha curato la prefazione presto vi daremo nuovi dettagli su location, su ore, su relatori e moderatori a questo punto io ringrazio vivamente David per la cortesia e la gentilezza e la professionalità con cui appunto ci ha tolto queste curiosità che noi abbiamo chiesto di sciogliere ringrazio anche Riccardo buon proseguimento a tutti, grazie mille